Salute avanzi DVR, visto il periodo di magra per quanto riguarda gli giochi, è arrivato il momento di mostrarvi la seconda parte di cose da sapere su queste tre. E ce ne saranno di molto interessanti, quindi assicuratevi di guardare il video fino alla fine. Partiamo da una cosa che mi avete chiesto in tanti. Quali sono e come funzionano i vari modi per collegare queste tre al PC. Quello più rapido e immediato, che non richiede particolari competenze e settaggi, è il cavo. In tanti mi dite di non riuscire a collegare il visore al PC tramite cavo, per poi scoprire che stavate utilizzando un cavetto di ricarica per il telefono. No, ragazzi, deve essere un cavo dati, come quelli che vi suggerisco nel primo commento. Io uso quello di VR Cover, che è eccezionale. Per poter collegare queste tre al PC tramite cavo, per prima cosa dovete installare ClientOculus ed essere sicuri che non sia attivo AirLink. Basta semplicemente andare nel menu e verificare che questa voce sia disabilitata. Dopodiché, accendete il visore, collegate un'estremità del cavo al PC e un'estremità al visore, indossatelo per autorizzare la connessione e dal menu delle azioni rapide cliccate su Collegamento Link. A questo punto uscirete dalla Home Quest ed entrerete nella Home Rift e potrete eseguire i giochi da PC, sia quelli presenti nella libreria Rift, sia quelli nella libreria SteamVR. Prima però dovete attivare il filtro della libreria Origini Sconosciute, far partire SteamVR e successivamente il gioco. Se invece siete tra quelli che di cavo non ne vogliono sentire parlare, beh, avete due o tre opzioni. La prima, totalmente gratuita e proprietaria, ed è AirLink. Se prima vi ho detto di verificare che la voce AirLink fosse disabilitata, stavolta invece dovete attivarla. Visore e PC devono essere collegati alla stessa LAN, quindi si parla di rete locale. Non serve internet e non venitemi a dire che, nonostante abbiate una connessione in fibra ottica, i vostri giochi scattano o non sono fluidi. Perché quello può dipendere o dal router che state utilizzando, dalla qualità della connessione wireless, oppure dalle prestazioni del vostro PC. Vi ho già spiegato come configurare una rete esclusiva per il visore, per poter sfruttare al massimo la banda di rete. Una volta attivato il collegamento AirLink, sarete allo stesso punto di prima. Cioè avverrà l'uscita dalla HomeQuest ed entrerete in quella Rift, dalla quale potrete eseguire tutti i giochi PCPR. New Entry dei Sistemi per la connessione del visore al PC, anche questo senza fili, ed è Steam Link. Dovrete scaricarlo gratuitamente su Quest e dopo averlo installato basta semplicemente avviarlo e seguire i passaggi che vi vengono richiesti. E in pochi minuti avrete la possibilità di eseguire i giochi SteamVR direttamente dal vostro Quest. C'è una terza opzione che a parere mio è anche la migliore anche se non è gratuita. Si tratta di Virtual Desktop e mi raccomando dovete scaricare la versione Quest, che se volete potete acquistare al 25% di sconto utilizzando il link che trovate nel primo commento. Inoltre dovete scaricare gratuitamente l'app Streamer su PC. Anche in questo caso trovate il link per il download nel primo commento. Dopo aver scaricato l'app su PC e sul visore, basta inserire il vostro nome utente meta in questa schermata della Streamer App, avviare Virtual Desktop su Quest e seguire una rapida configurazione iniziale. Perché per me Virtual Desktop è la migliore scelta e non ci saranno mai soldi spesi meglio? Perché grazie a tutti gli aggiornamenti che ha ricevuto, offre una vasta gamma di opzioni e settaggi. Nonché plugin anche per le schede grafiche più recenti, per personalizzare al meglio la qualità della vostra esperienza. Si può regolare il bitrate, la qualità del rendering in base alla vostra scheda grafica, si possono attivare opzioni come lo Space Warp. Insomma, se volete vi mostrerò tutte queste cose nel dettaglio in un video dedicato. Qualcuno potrebbe chiedere se abbia un senso collegare il visore al PC tramite cavo, visto che ci sono tutte queste opzioni wireless. Ma certo che sì, perché la qualità del collegamento wireless non raggiungerà mai quella del cavo. E inoltre, la qualità della connessione via cavo è ulteriormente migliorabile usando Oculus Debug Tool, uno strumento che si trova all'interno di una cartella nel percorso di installazione del client Oculus, grazie al quale è possibile migliorare ulteriormente la qualità della connessione via cavo. Come la risoluzione di rendering, oppure valori di bitrate fino a 500 Mbps, anche se non ha un senso andare oltre i 300-350, visto che oltre quei livelli la differenza di qualità è impercettibile e si caricherebbe inutilmente di lavoro la scheda grafica. Lo stesso vale per il rendering resolution, da non impostare mai oltre 1.5x, ma suggerisco di mantenersi sempre su 1.2. Anche su questo strumento, se volete, arriverà un video dedicato, quindi attivate tutte le notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi video. Il bello di poter collegare il visore al PC non è solo la possibilità di poter giocare ai giochi PC VR, ma anche la possibilità di mostrare agli altri quello che state vedendo nel visore, perché mentre giocate, sullo schermo del PC viene proiettato il gioco. Ma se non avete un PC abbastanza potente per i giochi PC VR, c'è un modo per mostrare i giochi stand-alone, cioè quelli che girano direttamente su Quest senza PC, sullo schermo del PC o addirittura su una TV? Ma certo che sì. Questa funzione si chiama Casting, e mi raccomando Casting e non Streaming, che sono due cose completamente diverse. Il modo più semplice e rapido per fare il Casting è tramite una pagina internet, aprendo l'indirizzo www.oculus.com.casting. Potete trovarlo anche nel primo commento. Questo vuol dire che qualsiasi dispositivo sia in grado di aprire una pagina internet, può ricevere i Casting dal visore. Aprite la pagina, fate l'accesso con lo stesso account del visore, indossate il visore e selezionate da questo menu la voce relativa al casting su TV o PC. E dopo qualche secondo, quello che fate nel visore verrà trasmesso su PC, telefono, tablet o TV. È chiaro che questi dispositivi devono avere la possibilità di collegarsi a internet. Quindi, nel caso di una TV, deve essere una Smart TV e non una comune. Se invece non avete una Smart TV e volete fare il Casting dal visore alla TV, potete farlo utilizzando Google Chromecast. È un piccolo dispositivo che, con 30€ circa, è una semplice configurazione, vi consente di trasformare la vostra TV in una Smart TV e inoltre vi permette di fare il Casting direttamente dal visore, visto che Google Chromecast è ufficialmente supportato da Quest. A parere mio, Google Chromecast è lo strumento migliore per fare il Casting, perché riduce al minimo la latenza e offre una qualità migliore rispetto agli altri metodi. Infine, sul dispositivo nel quale avete installato l'app MetaQuest, potete effettuare il Mirroring. Basta semplicemente accendere il visore, attivare il Bluetooth sul dispositivo sul quale volete fare il Mirroring, avviare l'app Meta, menu, dispositivi, selezionare Quest 3 e quando la connessione sarà stabilita, potete cliccare su Mirroring, vedendo sullo schermo del telefono quello che vede chi in quel momento sta utilizzando il visore. Ricordate che durante il Casting o il Mirroring non potete registrare video, o meglio, se lo fate, la trasmissione verrà interrotta. A volte mi scrivete di avere problemi con i controller del visore e, come soluzione, vi suggerisco di disaccoppiare, riacoppiare i dispositivi. E lì, ovviamente, scatta il panico, perché non sapete come fare. Bene, ecco come fare. Accendete il visore, attivate il Bluetooth sul telefono, avviate l'app Meta sul telefono, andate su Dispositivi, scegliete Quest 3, selezionate i controller uno alla volta ed eliminateli. Fatto ciò, scegliete di aggiungere un nuovo controller e seguite le indicazioni fino al riconoscimento dei controller. Vi ricordo che il visore vede i controller grazie alla luce infrarossa che viene emessa da una serie di LED sparsi sulla faccia superiore del controller e sulla manopola. Quindi, se usate quegli inutili grip di gomma che coprono questi LED, il visore non riesce più a tracciarli. E inoltre, vi ricordo che, al buio, il visore ne funziona, ne vede i controller. Se siete tra quelli che vanno in ansia perché ancora non hanno ricevuto l'aggiornamento del firmware, state sereni. Prima di tutto perché l'aggiornamento non viene rilasciato contemporaneamente lo stesso giorno e per tutti. Il rilascio è graduale. Non solo per paesi, ma addirittura per singoli utenti. Capita infatti che io ricevo l'aggiornamento e voi no? O viceversa, molti di voi lo ricevono e io no? Quindi, relax. Soprattutto perché non è detto che gli aggiornamenti portino solo dei miglioramenti. Anzi, capita spesso che i nuovi aggiornamenti tolgono funzioni utili, o introducano dei bug molto fastidiosi e bisogna aspettare più di un mese per la risoluzione del problema. Perché bisogna aspettare il nuovo firmware con il fix. Pensate che sono in tanti che decidono addirittura di disabilitare gli aggiornamenti automatici per non ricevere quelli nuovi, visto che nella loro versione sta funzionando tutto bene. Io invece, per motivi conoscitivi miei e motivi divulgativi, ho attivato il canale beta per ricevere gli aggiornamenti in anteprima, non solo delle versioni definitive, ossia quelle che ricevono tutti, ma anche di quelle piccole sottoversioni che vengono rilasciate periodicamente, cosa che vi sconsiglio di fare. Perché a volte arrivano delle piccole aggiunte o modifiche che bloccano il visore e lo rendono inutilizzabile. Quindi dovete ripristinare il visore. Questo significa riportarlo alle impostazioni di fabbrica, e cioè perdere tutto. Diciamo che questa è un'opzione ai fini di sviluppo, quindi se non siete sviluppatori lasciate perdere. Invece, per aggiornare il firmware del visore, basta semplicemente andare nelle opzioni, controllare la presenza di aggiornamenti. Se la voce è selezionabile, significa che l'aggiornamento è pronto per essere scaricato e installato. A questo punto, basta cliccare e far partire l'aggiornamento. Mi raccomando, quando aggiornate, visore è sempre collegato in carica. Lo sapevate che per fare acquisti bisogna impostare un PIN? Sicuramente sì, visto che è una procedura che si fa in fase di attivazione del visore. Quindi, avreste dovuto già farla. E, se avete già acquistato giochi, significa che avete già utilizzato questo PIN. Ma se voleste cambiarlo, oppure lo aveste smarrito, sapreste come resettarlo? Ecco come fare. Andate sulla home page di Meta, accedete col vostro account, entrate nel vostro profilo, e cliccate su Impostazioni del profilo Meta Horizon. Scorrete in basso fino a trovare la voce PIN, nella colonna a sinistra, e da qui potrete modificare il PIN Meta, oppure recuperare il PIN Meta smarrito. Passiamo a qualcosa di più divertente. Sì, esatto, sono proprio nella stazione di polizia di Raccoon City, la famosa città della saga di Resident Evil, dove tutto ebbe inizio. Non si tratta del gioco, non sto giocando a Resident Evil 2 in VR o una sua mod. Sono semplicemente nella mia home personalizzata. Fico, eh? Volete farlo anche voi? Ecco come fare. Basta semplicemente scaricare e installare SideQuest sul vostro PC, collegare il visore tramite cavo, e scorrere in basso fino a trovare Oculus Homes. Una volta dentro, troverete una vasta scelta di home personalizzate, che, dopo averle installate, andranno a sostituire la home predefinita. Quindi, per impostarla, basta selezionare la classica home di Quest. Ce ne sono per tutti i gusti. Resident Evil 4, Silent Hill, Metal Gear, Zelda, Beat Saber, Minecraft, Fortnite, e perfino la City 17 di Half-Life Alyx. Infine, per concludere questa seconda parte di cose da sapere su Quest 3, per rispondere a tutti quelli che mi chiedono come faccia a registrare video mentre gioco in VR, ci sono un paio di metodi. Mentre giocate, premete il tasto Meta sul controller destro, e cliccate sull'icona per la registrazione nella schermata dell'app. Scegliete se volete attivare il microfono oppure no, e confermate la scelta. Il puntino rosso in alto a destra indica che state registrando. Oppure, sempre premendo il tasto Meta, andate nella barra in basso, premete questa icona, quindi premete il tasto per la registrazione. Fate lo stesso procedimento per catturare uno screenshot. C'è un terzo modo molto rapido per avviare una registrazione oppure catturare uno screenshot. Una pressione lunga di tasto Meta e grilletto, contemporaneamente, farà partire la registrazione. Ma fate attenzione, perché se nelle impostazioni il microfono è disattivato, la vostra voce non verrà registrata. Una sola pressione degli stessi tasti vi consente di scattare una foto. Foto e video vengono salvati nella galleria, e possono essere condivisi direttamente dal visore, oppure scaricati su PC collegando il visore tramite cavo, accettando la connessione dal visore, ed entrando nella cartella Oculus, Video Shots o Screenshots. Potete anche registrare video dal passthrough. Basta attivare il passthrough premendo questo tasto, oppure facendo un doppio tocco con le mani sul visore. Bene, questa era la seconda parte di cose da sapere su queste tre. Ce ne sono ancora tantissime, quindi continuate a seguire, perché presto ve ne mostrerò altre. Grazie per la visione completa, like, iscrizione, continuate a seguire attivando tutte le notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi video, supportate il canale tramite il tasto super grazie, date uno sguardo ai link in descrizione e nel primo commento, per l'acquisto di Quest 3 su Amazon, per ricevere 30 euro di credito all'attivazione di un nuovo visore, per l'acquisto di tutti i miei giochi meta, col 25% di sconto, entrando nel gruppo Telegram, e per l'acquisto di tantissimi accessori VR e delle migliori marche, come Kiwi Design, Cyber VR, VR Cover, Aubica e lenti graduate VR Rock. Se volete acquistare giochi scontati su PC, sia flat che VR, potete utilizzare il mio link Instant Gaming. Va bene tutto, ci vediamo alla prossima. Un saluto, avanzi di VR. Un saluto, avanzi di VR,